secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie la prima la conoscete la seconda ve la faccio vedere allora la nuova skin in game molto molto figo ragazzi il fatto di avere la skin normale e la sua variante in in alta definizione porca merda si possono anche vedere le prime maia al sottolineatura ho sbagliato raga vi giuro sbagliato a qualcolare quanto toglieva vi giuro ragò sbagliato scusatemi ero non eh ragazzi non riesco a muovermi eh non riesco a muovermi porco porco il cazzo Vlad ha fatto il pazzo ma che cazzo fa che cosa cosa cazzo fa Vladino pazzerello all'oxiuderello si è abbonato qua che cazzo fa è una domanda tranquilla e beh infatti anche la mia risposta figa era tranquilla poi Lorenzo Novara buongiorno Filippo Artuso Luca Lacasci Cristian Tabrelli Simone Cattaneo Thomas Breda durante un FNCS una Cash Cup avevo dentro tipo per me 8000 persone mi ricordo che tralasciando il fatto delle 8000 persone per me comunque competere era cioè veramente importante era una partita importante sono crashato tipo in una fase finale ero verso l'endgame spenta tutta la corrente inter sono caduto dalla sedia da qua Merzia è che non me lo prendo mai perché sono stronzo abbonatevi col Prime raga è gratis che mi ha fatto menta oh no 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 eh vabbè era ragazzi Agis buongiorno Alessio altri son sottolineatura quattro mesi quattro mesi ciao Alessio grazie dei quattro niente siamo in 5 grazie Alessio molto molto bene sono divertito un casino in base ai tornei merda grave sincera assolutamente sì molto grave riftano dovrebbero venire qua non lo sappiamo dai voglio un pistolone bello anch'io l'ho chiesto a mia madre ma purtroppo chi sta con calma buongiorno Kinder Brioski ciao bello ciao bello lo rollero faccia il bravo ma tre mi sono nello shop ciao nino grazie vuoi portare i bush e fa altra gente qua sotto e anche dietro io voglio via via scappi vorre lui vorre lui e non posso schermo nero porco diavolo mi ha fatto schermo nero nel momento in cui sto portando giù troppi clean up vero probabilmente faranno vedere la crew e il pacchetto scala livelli ah è uscita ieri la nuova serie di Futurama ma scusatemi ma Futurama mica si era fermato con l'uscita delle puntate merda a parte la storia del muletista che stanno rischendo di distruggere l'azienda che non era affatto male ma infatti dieci anni fa si erano fermati con Futurama merda c'è stata anche una top 2 e questo è vero esatto casterà stasera ma io direi che questa sera se vedo ancora una skin di Fortnite potrei seriamente bestemmiare Gesù Cristo è il cazzo di pontefice che abbiamo no andiamo quindi è molto probabile che questa sera io vada a sollazzarmi da qualche parte non mi sto divertendo non ho mica capito sincero non ho mica capito perché questo qua ha sparato a me non si sono sparati allora lo chiamiamo un attimino su distrons c'era anche Jack gli ho scritto poi l'ho perso non sappiamo Jack ce la recuperiamo domani se vuoi la partita salve Zane come sta tutto bene tutto bene lei sei livato se si ingaggiava un fight che fosse 1v1 che fosse un 2v1 non lo so avrei semplicemente poi magari sapevano tutto e non succedeva un cazzo io personalmente avrei livato si poi magari non riuscivi giusto giusto infatti sto pensando di fare aprire Nettuno cioè cioè io ti gioco dietro guarda guardale l'elefante guarda la gazzella nooo le tigri che cacciano scolto numero 2 vedetemi che si è salvato si è salvato si è salvato 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 bene bene domani dovrebbe esserci domani dovrebbe esserci la avrei moragli di col cesso grazie allora piscia qui in mezzicampi ma vai a fanculo la piscia in mezzicampi quando vado a casa sua lì chiedo il bagno oh non sono mica un animale io oddio caro non ribittiamola di romper